Ormai si è alle battute finali per l'aggiudicazione dell'appalto da 8 milioni di euro per la ricostruzione della scuola secondaria di primo grado Mazzini in via Filomosi-Guelfi. È il giorno dell'apertura delle buste tecniche al provveditorato delle opere pubbliche che è la stazione appaltante ma la procedura non è affatto immediata perché sono 19 le imprese che hanno concorso ogni singola busta poi va esaminata prima dell'aggiudicazione finale. Il progetto definitivo è comunque molto interessante redatto in base alle indicazioni fornite dal settore ricostruzione pubblica del comune. Sarà mantenuto il corpo di fabbrica destinato alla palestra dopo la ristrutturazione. Oggi quel corpo è sede del consiglio comunale e saranno demoliti e ricostruiti gli altri corpi di fabbrica esistenti. In totale si parla di tre corpi distinti. Un edificio per 350 alunni con un progetto in realtà del 2017. Ambienti didattici funzionali e sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico. Spazi verdi, aree sociali e informali che permetteranno alla comunità scolastica di fare le loro attività ma anche aprire la città. È prevista una gorai, inoltre uno spazio polivalente progettato come una sorta di anfiteatro per lezioni, laboratori, attività ricreative e dopo scuola. Insomma un edificio funzionale che servirà anche a rivitalizzare il quartiere che lo ospita. L'intera area della Mazzini verrà proprio riprogrammata, non si irratta di una semplice ricostruzione di una scuola, ci saranno anche degli spazi di fruizione collettiva che potranno essere utilizzati anche al di fuori dell'orario scolastico. Trattandosi di un appalto integrato, la ditta che si aggiudicherà ai lavori procederà con il progetto esecutivo e in quella sede è già programmato un confronto con il provveditorato, con l'ufficio scolastico e con la direzione didattica per mettere a punto tutte le condizioni dell'edificio che siano adeguate alle esigenze della scuola rinnovate perché naturalmente è una città dinamica e quindi anche le scuole cambiano un po' pelle strada facendo. Per 13 anni la mancata ricostruzione delle scuole è stata un po' il buco nero della ricostruzione aquilana, ora con le nuove procedure che consentono al comune di agire direttamente, l'obiettivo è far partire sempre più cantieri per far tornare i ragazzi dai MUSP che in alcuni casi oggi sono fatiscenti a scuole vere e proprie. Io ho firmato più di 200 decreti, sono partiti gli iter per nove scuole, circa 30 milioni di euro, su alcune scuole penso a bagno, i lavori termineranno non molto a lungo, su altre scuole abbiamo fatto la posa della prima pietra, altri progetti un po' più complessi vedranno la luce più avanti, su altre scuole ancora abbiamo un'interlocuzione aperta perché abbiamo bisogno di un'integrazione delle risorse, spero che il governo e la struttura di missione acceleri da questo punto di vista.